Io ieri mattina sono stata chiamata all'insegnante di sostegno dicendomi che dovevo recarmi presso la scuola perché la bambina era in bagno e mi sono quindi anche preoccupata nel caso si fosse insomma sporcata quindi di fretta ho messo nella borsa tutto ciò che serviva per poterla cambiare. Quando sono andata lì ho trovato l'insegnante di sostegno, l'educatrice e un'altra figura che non so chi fosse fuori dal bagno e mi hanno ricevuta dicendomi signora la bambina è in bagno, la sta aspettando. Sono entrata in bagno e la bambina era seduta con i pantaloni abbassati ovviamente, quindi l'ho pulita, non c'era nemmeno la cartigenica, mi è stato detto signora insomma non era nel nostro compito provvedere a questo. Una bimba di soli 9 anni costretta a rimanere a scuola per lungo tempo in bagno senza assistenza. La mamma costretta a lasciare il lavoro per raggiungere la piccola scuola ogni volta che ha un'esigenza. Una volta è stata anche messa seduta fuori dalla classe. Questa è la storia di una bambina salentina ma non è la storia del singolo, ma un'emergenza che riguarda molti bambini che hanno bisogno di sostegno a scuola ma che si vedono privati di un diritto palleggiato tra Regione Puglia e ASL. Io faccio appello a chi di dovere perché la bambina possa avere oltre all'insegnante di sostegno anche l'assistente. Lei ha diritto a questo perché è una portatrice di handicap al 100%. In questi anni, primo e secondo elementare, la bambina ha dovuto frequentare le ore che l'insegnante di sostegno copriva. Quindi se l'insegnante di sostegno arrivava alla seconda ora e andava via alla quarta, la bambina frequentava dalla seconda alla quarta ora. La bambina ha bisogno dell'assistente che non ha dal primo anno, non è mai stata data, sono andata anche presso l'ASL. L'ASL mi ha risposto che non ha le figure che possano ricoprire tutte le richieste delle scuole. Devono aiutarci.